secondo me non ci arriviamo è sì Allora Per me è tosta questa qua, eh. No, rendersi veloce. No, ma questa è questa. Ma va, che forte. Non andiamo per gelato. No, lì io mi sono fermato e c'era una pianta. Allora, secondo me non ci arriviamo. Troppo gelato, eh. Ma pensavo che arrivavi. Troppo gelato. Bravo. Bravo. Che motore, eh. Che motore, eh. Quella tira su Stefano, eh. L'ha tirata su uguale da fermo, eh. Che motore non era tanto convinto, eh. No, ma da poco, arrivo. No, ma da poco è diventato dolore. Ehi, ciao. Aspetta. Oh, cazzo, oggi mi salta dosso, figaro. Via, vai. Vai. No, Spampi, non c'è. 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 Ah! Ah, pollo! Ah, pollo! Vito, su qua devi tagli, eh! Eh, devi dargli tanto lì, eh, ma devi dargli tanto lì, eh! È quattro tempi che mi tira! Certo, se no col cacchio che venivi su! Ah, pollo! Ah, pollo! Ah, pollo! Ah, pollo!